E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, un saluto dallo Stadio Bentegori di Verona ad Andrea Di Staso. E' la Sverona Chievo, il decimo appuntamento con il derby di Verona. Il schiatti in bocca per Damato, è iniziato il derby tra Elas e Chievo. Il pallone recuperato da Petkovic, da fuori Buckel, scalda i pugni di Sorrentino che si rifugia in calcio d'angolo. Al settimo minuto, ancora insidioso l'Elas. E allora prova a spingere sulla sinistra l'Elas con il tocco di Fares all'indirizzo di Matos che prova a sterzare. Ne porta via due, tocco dentro verso Petkovic. Pala leggermente è troppo lunga e Bani che protegge l'uscita bassa di Sorrentino. Occhio, inglese che si prepara alla conclusione col sinistro. C'è una deviazione, c'è calcio d'angolo. Pretoria precisa! Si era liberato Bani, si era liberato ancora Meggiorini sul palo lungo. Questa è un'opportunità decisamente importante per il Chievo ad un passo dal gol dell'1-0. Cacciatore, di prima intenzione verso Meggiorini, ancora una grande strisciata. Prova a Castro a inserirsi, ce ne botta su Vukovic. E Nikolas con le gambe preserva lo 0-0. Castro, si apre cacciatore, si va invece da Birsa. Dentro per inglese, girata a lato non di molto. Ottimo movimento da parte di Roberto inglese. Impatto con la sfera invece non perfetto. La traiettoria di verde però è bassa. Una seconda possibilità, il giocatore napoletano che prova a prendere il fondo. La girata di Caracciolo e il Verone in vantaggio al 52esimo con la rete di Antonio Caracciolo. Gol numero due in Serie A-Team. Dopo quello al Milan è stato il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone. Arretrato, apparentemente innocuo di verde. Si rompe l'equilibrio al Bente Godi. Gobbi ha la meglio nei confronti di Ferrari. Poi la chiusura di Buchel. Altro pallone dentro. Dietemai verso inglese. Insiste il Chievo dal limite. Birsa. Conclusione comoda per la presa a terra da parte di Nikolas. Tocco di Giaccherini per Gobbi che cerca il tunnel a giramento su Ferrari. Ancora Giaccherini fuori per Radovanovic che può armare il destro. Palla sul mancino. In precario equilibrio il serbo non riesce a indirizzare verso la porta di Nikolas. Avanza Castro. Ennesimo pallone sulla destra ed ennesimo cross di cacciatore. Anche questo deviato. Zucculini riesce a ritrovare la coordinazione per intervenire. Poi Calvano la perde. Il pallone è perso sanguinosamente. Birsa. Cerca il cross. Buchel allontana. Colpisce malissimo Castro. Punizione affidata al destro di Fossati. Mentre inizia l'ultimo minuto regolamentare. Va a cercare quasi una deviazione sotto porta. La parte di Petkic che è effettivamente l'ultima a toccare il pallone. Fischio di Damato. Va a Giaccherini a cercare una deviazione. Allontana non del tutto Zucculini. Da fuori Gobbi. Palla in curva. E non c'è più tempo. Lellas vince il derby.